carabinieri carabinieri pieno di moscerini vado a fare brutto con i moscerini facciamo un video muto ma vabbè pieno di moscerini muoviamoci che se no moriamo è vero le nuove scarpe del bro 5 e 10 freeride spaccano ve lo assicuro quindi oggi siamo venuti nel posto di questo video qua niente oggi proviamo una foto oggi prova a fare il movimento così in flat è quello eh ce l'hai e se fai quello in rampa ce l'hai provo a farlo tipo bagnoppando è difficile è perché poco tempo non è la gonfia tra l'altro non tanto è un po' sgonfia ma si si è buono mi sono stata buono No è la rampa che è piatta oggi Allora Arrivi lì e giri la rampa e ce l'hai Quindi Dopo questa bella secca che abbiamo andato Anche se non sono caduto Però fate finta che sia una caduta Chiudiamo sto 180 Ce l'avevo Basta Mai più faccio 180 Bro deve mandare Che anche a me è tocca mandare one hand Grazie a tutti Wheelie bike Grazie a tutti Siamo quindi arrivati Anche alla fine di questo video Senza morti Oggi avrei dovuto chiudere qualcosa E non ho fatto un bel niente Anzi ho fatto un bel po' di salti storti Invece il bro che usano foot Per la prima volta Forse vedrete ancora alcune clip E niente Alla prossima Speriamo di arrivare a casa Ora abbiamo pitato le bici Con i fari Si è notte praticamente E noi siamo ancora in giro in bici Questi qua sono i veri enduratori Sempre impennate che col buio Let's go No si sentirà niente Però lo va bene Basta chiudo il video Allora appena salutato il bro Siamo arrivati a casa sua Quindi lui è sopravvissuto Gentilmente mi ha dato le luci Sennò in questo momento Non so come fare a andare a casa Vi assicuro che È completamente buio Sono da solo Cos'era quello Probabilmente questo video Finirà nella categoria Horror Perché mi sto gagando addosso Ma almeno qua un po' di luce Incontro Incontro Carabinieri 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 Credo di conoscere questi qua in moto Completamente buio No C'è un piano Non puoi Ecco C'è un piano